Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo le anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11, versi da 28 a 30. Nella piena comunione con il Padre Suo, Gesù coinvolge anche noi. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e lì solo in grado di darci ristoro. C'è una condizione, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e poi nuovamente troverete ristoro per la vostra vita. Il popolo eletto è rimasto fermo alla terra promessa, una terra dove scorrono latte e miele, ma che ha dei confini terreni ed è collegata in un'area geografica precisa. Ma nell'Antico Testamento la parola ristoro, che possiamo anche tradurre il riposo, rimanda non a una terra precisa, quanto piuttosto ad uno stato esperienziale di completa pace in Dio, in ebraico menukha. Così il Salmo 23, in pascoli verdeggianti mi fa riposare ad acque di ristori, menukhot, egli mi conduce. Gesù chiede ai suoi interlocutori, tra i quali ci siamo anche noi, di vivere coi piedi per terra, ma di tenere la mente ed il cuore aperti a una pratica religiosa che non sia appesantita da un gioco normativo che opprime e scoraggia, come avviene per gli ebrei del suo tempo, ma che sia liberante e ci permetta di trasformare la nostra esistenza e di mettere le ali. Le parole di Gesù possono sembrare edulcorate e poco concrete, in realtà sono le parole di un mite e di un umile figlio di Dio che ci vuole i suoi fratelli e che dice ai suoi discepoli, vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò presso di me affinché dove sono io, siate anche voi. Giovanni 14, versi 2 e 3